Ciao ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti ragazzoli ad un nuovo episodio su Black Ops Ragazzi oggi siamo sul gioco delle armi, non lo facevo da tantissimo tempo ed ora siamo la prima Ragazzi veramente non so cosa aspettarmi, sono tutti due qua fuori, ok benissimo così, e poi ragazzi cercheremo di andare a prendere questo, no come ho fatto a non ucciderlo Siamo quasi al limite del livello 9 del prestigio quindi dobbiamo passare al prestigio 10 ragazzi ci siamo quasi, questo bastardo mi sta aspettando, sono stato stupido anche io Qui c'è qualcuno che arriva, lui devo andarlo per forza ad attaccare perché ho queste pistolette, devo giocarmela da vicinissimo, non da vicino Dove cazzo sei? Oh lui hai, quante colpi? Ok che spanna qua qui, probabile spanna qui, no? Spanna di uno qui raga Ok doppio colpo E' bellissimo con l'Argus Ottimo ragazzi, l'hai metter giocato bellissimo Bene così con le BMP Vieni qui, vieni qui Buono così ragazzi, stiamo andando la grande, siamo 80 C'è un altro che lo posso, molto molto molto, con Racerback ragazzi Nooo col pompa bastardo VHF Nel nostro HB K40 ragazzi dovremmo farci perché l'hanno abbuffato, ora è un'ottima arma, dove sei? Dove siete? No come sono stato stupido ragazzi Mi sono fatto uccidere da una pistoletta Del cazzo Ok ragazzi, questo sta qui Finiamo un po' Che sta facendo questo qui? No ragazzi, scappano tutti Stiamo perdendo tempo C'è 110 ragazzi No, come ha fatto a uccidermi dai English Beast Pit Porca e va ragazzi Sto H, sto H, H di merda Bene così ragazzi Arriva sicuro da qua C'è anche da dietro C'è anche da dietro da qua Ah cazzo 110 C'è chi mi ha rimprogato che dico troppe volte cazzo E dico Dici figa Qua sono fortunato che ho sbagliato Eh ragazzi con la sheva E' una emerita merda Così starma cazzo Ma sapete meglio di me ragazzi Quanto è brutta starma così Dove cazzo è questo? No ragazzi Non ho sciolto Non va Siamo a 120 fermi con il Con il nostro avversario Qualcuno ferma? Dimmi sì No niente ragazzi No niente non va Non ho sciotta proprio Non ho vinto nei colpi starmi Io non riesco a capire Perché hanno fatto sta cosa Eh vabbè ragazzi Guardate questo non mi uccide Qualcuno mi ha ucciso dal muro Madonna ragazzi 140 150 L'altro Vabbè No guarda Guarda questa fortuna Ah finalmente finalmente Ho levato davanti Ok ragazzi Facilissimo qui Arriva qualcuno da qui Da sopra Da dentro Dove cazzo? Io no Dove cazzo è questo? 140 160 Ce la giochiamo ragazzi Dove ho il dingo che non è affatto male Bene così Compet eliminato Cazzo quanto si scazzo Iri dai No hitmarker no Hitmarker no No hitmarker no Spawnare così no Era un ottimo Era un ottimo gun game Questo ma Bene Sono pure scesi Il monte non su Dove È spawnato E ci ha fatto Ragazzi Cioè che sfortuna Assurdo Assurdo davvero Ragazzi Va questo Dai Ah finalmente Finalmente 170 190 Ragazzi Speriamo Speriamo che questi Non si facciano Faffanculo Vabbè ragazzi Che dico Ci vediamo al prossimo Gun game Subito Ed eccoci qui ragazzi Al secondo Match Il gioco delle armi Vediamo Speriamo che Stavolta Non mi trolla Il dannato Share A dare dov'era Al dietro Giustamente Cercavo di andare A vincere Ragazzi Dove è che va Quello Ragazzi Vabbiamo Vabbè Così Vabbè Così Ah Finalmente Ottimo Così Hit Fire Rando Va bene Va bene Non fa niente Ragazzi Bene Così Arriva questo qui Un cecchino Un cecchino Un cecchino Guarda che sei Dentro qui Sei mio Con l'amica Non l'ho visto proprio Ragazzi Non l'ho visto Comunque scusate Adesso sto in silenzio Sapere Ma E' così frenetico Questo gioco Che devo stare Super concentrato Non è morto No Vabbè Non ci vedete Cioè Non ci vedete Vabbè 2.000 colpi Vabbè Ma Sareverevano No Vabbè Questo Chi è Lo scemo Un one shot Ma Di là che c'è Una cosa Vergognosa Cosa Lo scemo C'è qualcun altro vicino Dietro Davanti Dappertutto Eh vabbè C'è Così dietro Che davanti Eh Forza 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 Senza Senza De mordere No Come affani Ridico Buona cosa Eh raga Purtroppo Sceva contro Un fucile a pompa Non è una bella Sfida Non è soprattutto Una sfida Pari Guarda Ci sta nessuno Vabbè Meno male Meno male Si è ucciso Dalla sola No Guardate Che bastato No che bastardo Me l'ha rubato Che bastardo Me l'ha rubato Tra la Bene così Va bene L'importante è Perciò quello Col cecchino Che sta Un bel po' avanti Raga Ora andiamo Con sto borgo Vediamo di fare Una bella cosa Sì Sì Così Sì Sì Non male Raga Non c'è Tornato No Era dietro 180 Raga Il primo 180 Non fatelo Non fate Che cazzo Che cazzo Che cazzo Non ha sparato L'arma Ottimo Quasi Vaffanculo Non stavamo Non stavamo Giocando male Vabbè Accontentiamoci Questo secondo posto Ho già registrato Tre volte E Ho vinto due volte Una si è arrivata Seconda un'altra volta E lo share Mi ha trollato Non ha registrato La clip Ma va bene così Ci vediamo subito All'accesso Al prestigio numero 10 Ragazzi Eccoci qui Siamo in caserma Prestigio 9 E andiamo Ad andare Al decimo prestigio Ragazzi Così Potremmo Cominciare Anche A Come dire Arrivare al Prestigio Master Maestro prestigio E a godercelo Raga Questo è l'ultimo Della grandissima Scalata Che abbiamo fatto Insieme In tutto questo tempo E cercheremo Di regalarci altre emozioni In questo gioco Che per me È stato Veramente Molto molto bello Ci vediamo Al prossimo Di raga Fallow